Potenziali, merci e armi. Tutto in vendita a prezionesti. Mi chiedo, un tempo anch'io ero un avventuriero, finché non mi sono buscato una freccia nel ginocchio. Tieni le mani a posto, ladro. Tieni d'occhio il cielo, viandante. Tieni le mani a posto, ladro. Problemi? 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.